Si chiama Clerici Lab, il più grande progetto di formazione mai realizzato in Italia dedicato all'intera filiera della termoidraulica. L'iniziativa, presentata ufficialmente oggi a Brescia, nasce da un'idea di Clerici, punto di riferimento del mercato italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno, con l'obiettivo di trasferire il proprio patrimonio di conoscenze alle prossime generazioni di professionisti del settore. Cerchiamo di proporre agli studenti e ai ragazzi una nuova visione sul mondo della termoidraulica allargato, quindi cercare di portarli verso una professionalità che li possa far entrare nel nostro mondo, nel nostro mercato, in un lavoro che può essere in tutta la filiera, quindi o da noi che siamo commercianti di materiale termoidraulico oppure verso i nostri clienti. O nel mondo della produzione, qua siamo a Brescia, dove c'è un tessuto economico molto forte nella industria manufatturiera, dove quindi le stesse competenze possono essere portate. Tra le prime iniziative di Clerici Lab vi è un partenariato per la fondazione CNOS FAP Regione Lombardia, uno degli enti di formazione più accreditati a livello regionale. Questo progetto è un percorso di FTS in apprendistato per diversi ragazzi e ragazze che vorranno accedere a questa misura. È una partnership importantissima, per noi la formazione è davvero un investimento sul futuro, per i nostri ragazzi ma anche per le nostre aziende, perché è così che riusciamo a dare loro competenze, capitale umano formato. La collaborazione segna un ulteriore passo avanti nella professionalizzazione delle figure che saranno al centro della termoidraulica di domani, grazie alla creazione di un IFTS, un'istruzione e formazione tecnica superiore, presso la sede dell'Istituto Salesiani Don Bosco di Brescia. A partire da settembre 2024 la collaborazione concreta IC Lab arriverà al concreto, con l'avvio di un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, che verrà coinvolte ragazzi e ragazze con un'età massima di 25 anni, per essere formati attraverso un percorso ad hoc. L'obiettivo quindi è quello di creare dei tecnici per specializzati da inserire all'interno dei vari comparti produttivi del gruppo Clerici. Dalla Lombardia al resto d'Italia, il progetto di Clerici Lab è un unicum nel settore a proporre un percorso professionale post-diploma dedicato alla logistica e termoidraulica.